Bruxelles è una città assolutamente famosa per i locali, infatti ci si ferma sempre e a questo punto fermiamoci a capire come viene fatto il rosè qui a Bruxelles dei Barra allora, proviamo a capire il rosè, come lo fate voi? noi il rosè, magari, come consigliano loro, un po' di bianco, un po' di rosso un po' di rosso, un altro po' di bianco, è un rosè perfetto ma invece è un rosuolo su questo qui direi un chiaretto, quasi chiaretto vediamo l'Arcano, il Barra non è a Bruxelles, in realtà siamo nel banco di campo alla Sughera quindi insieme a loro vogliamo capire quali sono i prodotti zona Bolgheri, quindi zona sicuramente famosa a livello italiano perché Bolgheri fa nome da sé quale viene abbiamo utilizzato in realtà per fare questo ottimo rosato, perché sarebbe un ottimo rosato sarebbe un ottimo rosato, Arioso, Sauvignon Blanc con una piccola percentuale di Bionier annata 2008 e Adeo 2007, Cabernet Sauvignon 60% e 40% Merlot quindi ovviamente vitegni classici per quel tipo di zona ma una curiosità, i nomi, perché sono questi nomi? i nomi sono tutti nomi che iniziano con la lettera A, quindi è un vezzo dell'azienda e appunto Arioso è un nome di fantasia in Calabresa Marina Adeo era un filosofo greco che ha parlato, ha scritto dei trattati sul vino grazie